Ognuno di noi può far crescere la sofferenza, il male, la cattiveria nel mondo agendo male. Come può far crescere il bene? Può ottenere la Signore la pace facendo il bene. E allora il Signore ci aiuti a cambiare, a rinnovare il nostro cuore, a far sì che noi diventiamo collaboratori di Dio. Non soltanto per la nostra vita, ma anche quella buona parola che possiamo dire agli altri, incontrandoli, portando una parola semplice, una parola di Dio, come Giona. Ecco, anche noi potremmo in tante situazioni aiutare il Signore a cambiare il cuore dei nostri fratelli. Questo vuole essere, deve essere il programma di questa Quaresima per noi. Cambiare noi, aiutare gli altri a cambiare. Con l'aiuto di Dio e la nostra buona volontà. Amen.